buongiorno a tutti e a grandissima richiesta rieccomi a parlare di bitcoin so che sono mancato per un po di tempo ma vista questa estrema lateralità mi aspettavo qualche movimento interessante prima di venire a commentare che cosa vedo a monto devo dire che comunque il bitcoin sta iniziando a ricalcare pesantemente il lo standard and push 500 il mercato americano infatti ha fatto 1 2 e sta facendo 3 t meno 2 inversi o comunque sta lavorando su tre tempi il discorso è che però ci sono alcune cose che vanno comunque controllate assolutamente controllate anche perché abbiamo avuto qui soprattutto un qualche cosa di difficile comprensione nel senso che andiamo a rivedere tutto con calma l'annuale il t più 5 e primo t più 4 primo semestrale partiti qua hanno lavorato come detto a 1 e 2 t più 2 quindi il primo trimestrale è stato questo ed ha fatto le sue allora eccolo qua allora il primo mensile è stato questo a 34 bar il secondo ne ha fatto 25 e poi abbiamo avuto il secondo t più 3 trimestrale questo è il primo che sta andando a 35 più 35 quindi ha fatto il primo t più 2 che ha chiuso qui a 35 barre poi c'è stato questo movimento con finta di partenza rialzo e poi ribasso che va compreso perché è composto da 13 barre quindi dovrebbe essere un 6 più 7 solitamente sono le cose qui però c'è un 5 barre qui abbiamo un minimo superiore quindi non può aver chiuso è una roba che fa vita a sé ok e oltretutto andandosi a vincolare immediatamente al ribasso avrebbe dovuto far proseguire il ribasso che però per ora non ha dato nel senso che non abbiamo avuto nessun minimo in faiolo agli 8830 e questa è una cosa importante anche se come detto abbiamo avuto una lateralità spinta paurosa e peraltro abbiamo cambiato non so se l'avete notato il nostro ritmo perché siamo andati da rimanere sempre sopra la media mobile a 50 periodi che è andata appunto in golden cross all'appoggiarci e poi a piombare sotto e non riusciva più a risalirci sopra è vero siamo ancora in golden cross il discorso è che stiamo andando a finire non soltanto sotto la media mobile a 50 periodi questa qua in rosso ma anche sotto l'acumo il livello inferiore dell'acumo e questo non è questo non è grave ok se avessi dovuto fare un'analisi ieri vi avrei detto che oggi mi aspettavo un minimo di rimbalzo con una salita superiore ai 9214 dollari per ora non sta arrivando ma avremmo in concomitanza della possibile chiusura di un secondo tp2 inverso di un secondo mensile inverso che è già arrivato appunto a 11 barre e non ha potuto chiudere prima dovremmo andare a fare un ultimo top cercando di arrivare il più possibile vicino a 9390 ma con questa lateralità comunque mi riservo la possibilità di augurarmi che si vada sopra i 9214 dollari di oggi questo per chiudere il primo settimanale di questo tp2 inverso che è arrivato appunto all'undicesimo giorno oggi eccolo qua aggiorno perché alcune cose le ho lasciate ancora da ieri però capite che se siamo in un trading range sostanzialmente di 888 889 889 i 500 dollari per bitcoin non sono niente e oltretutto lo siamo da tantissimi giorni per cui se vogliamo effettivamente poi andare ad analizzare ancora più nello specifico grafico capite che abbiamo rialzo ribasso che ci riporta quasi sui minimi rialzo che finalmente scura i massimi ribasso che ci riporta in trading range siamo andati a finire sotto appunto a livello inferiore della cumo siamo sotto la media mobile dovremmo chiudere d'inverso con una salita andando sopra o a pari dei 9214 e qui in teoria possiamo fare tutto quello che vogliamo perché per quanto riguarda l'indice siamo al probabilmente in realtà terzo t che dovrebbe avere un minimo di spinta verso l'alto però abbiamo veramente un trading range di nuovo molto noioso che poi si può sempre andare ad interpretare però avrei preferito fare un'analisi quando fosse arrivato qualche cosa di più interessante rispetto alla riflessione su un giorno che dovrebbe essere oggi con un top superior a qui per poi ritornare eventualmente appunto a scendere altre cose in particolare non non me ne vengono in mente sinceramente perché l'inverso ok sta spingendo verso il basso ma il secondo t più 4 il secondo ciclo semestrale è arrivato a 48 giorni quindi in 48 giorni è già più di un t più 2 quindi è confermata la partenza del t più 4 non ci sono cose particolari da raccontarsi dopo che c'è stato appunto questo tre tempi in termini di t più 2 inversi per quanto riguarda il primo t più 4 qui siamo sul secondo c'è da dire che dato che siamo quasi arrivati a ritracciare a ritornare sui 10.500 ci siamo fermati a 10.429 quindi a 79 dollari dal superare massimo abbiamo avuto un ritracciamento talmente forte di inverso che è probabile che con questo secondo t più 4 si torni ad andare di nuovo sopra si torni a salire per effetto di un inverso che piano piano si dovrebbe vincolare a ribasso e quindi a rialzo per bitcoin però altre cose in particolare in questo momento con una lateralità di questo tipo sinceramente non mi sento di di farne anche perché nella realtà di fatti in un momento come questo già vedrei che cosa succedere già vedrei che cosa che cosa andremo a fare a fine giornata solo successivamente dalla prossima settimana mi muoverei per vedere che cosa fare non opererei con una con una lateralità di questo tipo se non durante la giornata se non in intraday e non su più giorni perché si rischia poi troppo che arrivino degli hft e ci spingano o da una parte o dall'altra parte e questo sinceramente non lo vorrei per cui contate che c'è questa divergenza rialzista contate che dovrebbe andare sopra i 9214 o a pari in giornata e vediamo poi da lunedì che cosa hanno intenzione di fare perché teoricamente con un verso così spinto e con un ritracciamento così forte dopo la spinta principale che dovrebbe avvenire nel primo tp2 tp3 inverso di questo tp4 semestrale dovremmo iniziare poi piano piano a scendere l'inverso ovvero a salire di bitcoin a far salire il prezzo del bitcoin questo è quanto vi ringrazio per il vostro tempo e se avete bisogno di appunti sulla ciclica totalmente gratuiti potete scrivere a info at financialarmor.eu trovate solitamente l'indirizzo sotto ogni analisi o quasi buona domenica a tutti